Bisogna essere pronti a tutto. E allora prove generali di terremoto, magnitudo 0.5 nel Pinerulese. La protezione civile ha testato in grande stile, lo farà anche nei prossimi giorni, la capacità di reazione di soccorritori e popolazioni in caso di una catastrofe sismica. Centinaia di mezzi impegnati, oltre a volontari, tecnici ed esperti. C'era Maurizio Menicucci. Lo scenario in cifra, c'erano circa 5.000 persone senza tetto, in abitazioni inagibili, Siamo a Pinerolo, dove, lo diciamo subito, a scanso di equivoci e falsi allarmi, non c'è stato nessun sisma, ma la memoria umana è corta. E un terremoto da queste parti c'è stato davvero. Il 2 aprile 1808, 5 gradi e mezzo di magnitudo, come quello che ha sconvolto l'Emilia nel 2010, solo per la poca popolazione ha fatto meno vittime, 10 e meno danni. Anche il Piemonte, infatti, insieme a gran parte della penisola è zona sismica. Come del resto confermano le scosse tra Asti e Alessandria nel 2001 e 2003, è il Pinerolese in testa alla mappa regionale del rischio con la sigla 3S, tendenza medio-alta. Per questo la protezione civile nazionale e regionale da oggi a giovedì sono impegnate con migliaia di tende, mezzi di trasporto, presidi sanitari e cucine da campo a simulare il soccorso agli abitanti subito dopo una scossa tra Pinerolo, Perosa, Argentina e Luserna, San Giovanni. Esattamente, è stato fatto simulando un terremoto di 5.5 di magnitudo a profondità più centrale 6 km. Che cosa prevede l'operazione? 800 funzionari tra tecnici degli uffici, vigili del fuoco e protezione civile, 700 volontari di soccorso, vigili del fuoco e tutte quelle forze impegnate per dare una prima risposta in caso di emergenza. Ma non sarebbe più utile organizzare queste simulazioni in zone davvero sisbiche di cui l'Italia abbonda? Ma indubbiamente ogni regione è auspicabile che facesse le esercitazioni in base ai vari rischi della propria regione. La regione Piemonte in questo caso ha voluto fortemente fare questa esercitazione nazionale congiunta. Ma queste simulazioni servono a mettere a punto la macchina dell'emergenza o a giustificarla? Non sarebbe meglio fare case antisismiche? Ma indubbiamente sarebbe meglio fare case antisismiche, ma non è possibile col patrimonio italiano mettere a posto tutte le case. Vabbè, tanto meglio prepararsi al peggio. Sono sempre di più i pazienti che in Italia sono colpiti da tumore della pelle, mediamente il 5% all'anno.